bella ragazzi e adesso hit the spider pork vi parla scusatemi hit the spider pork vi parla sempre bene e oggi siamo sul secondo episodio di sensor of the third e cominciamo ma ben pratica questi qua sono finiti in prigione e film dopo aver fatto la rapina di merda per qualche strano motivo vengono convocati su un aeroplano gigante un'intera scone you have any idea who you're fucking with here of course a remarkable likeness these visions are viola and kiki and i am philippe laurent chairman of a multinational organization called the syndicate never heard of it evidently not or you would not have robbed our bank perhaps you wonder why you are still breathing at this point actually i wonder why my foot's not up your ass at this point like it or not mr. gatt our organization is expanding into steel water i am offering you the chance to leverage your assets against your lives ladies you may continue to operate the saint soltor media group as you see fit in exchange for 66 percent of your monthly gross revenue that is before taxes of course listen you french fuck please i am belgio so make yourself a fucking waffle we done here and i had so hope to come to a rational business arrangement oh si bravo ammazza cazzo denke the piccato che bella ne ancora, vio Boss you gotta bail no not without you Like half a dozen guys I Can take them what about the plane? I'll fly it back to Stillwater Johnny you can't even drive stick how you gonna fly a plane? Details details just cover the boss go I got this Oh Okay Attention passengers this is your new captain speaking our updated flight plan has us landed in Stillwater E' un po' di me! E' un po' di me! E' un po' di me! Che fico! Cosa! Cosa! E' un po' di me! E' un po' di me! E' un po' di me! Non ho bisogno di mezzare il cuore! Noi! Muori! Muori! Si! Anche a te! Ricchiamo! Muori! Oh no, 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 ma è bellissimo, nelle palle, ma dai che male, oh, scena, Sì, tienila, sennò, con la bella ficca muore, no, ma dai, sfigato, la riprendiamo? Ah no, non è lui, lei, io pensavo che era lei, ah, scusatemi, scusatemi, ah, mole, mori, Open fire, yes, I open fire on you, same, ah, yeah, ah, yeah, oh no, ah, yeah, Ahi, ah, la riprenda, ole. Ah beh, guarda, un piano perfetto, dai, ma... Ma dai, poveri, ma dai, ma dai, ammazza tutti, fa esplodere l'aereo, facendo le baraccadute, E va giù, che piano geniale, ragazzi, è un genio lui. Ovviamente è più genio di lui, non esiste. Ora prendiamo la nostra bella ragazza, tu che cazzo sei? Muori, 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 mamma, frossa. Wow. Cazzo. Quanta merda c'è nella era, ma, eh, direi. Nero da carica. Carico. Sei. Eccola lì, eccola lì, prendiamola, sei, presa. Eh, ma dai. Ma, ragazzi, mi sa che la missione sta per finire. Sì, esatto. Vediamo ora che succede. Vici dolore. Vici dolore. Eh. Sei. Bella, ragazzi. Bene, per questa missione qua abbiamo finito. Perciò ci vediamo alla prossima puntata. E grazie per avermi seguito. Grazie, grazie. Ciao, ciao.